Ma come faremo delle tassi? Ti prego, ti prego Ma che certo? Ma come me lo devo dire? E diette non fatti Se te devo far rinchi per l'asta di settembre Non è far rinchi per pensare anche che così No, san malo E partita l'anno prossimo con i sordi nostri E poi qualcuno ci vuole Poi a quel punto Che ne pensi? Panfilo Che succede? Saluta i posti Saluta perché? Saluta Andrea Allora stavo a superare sul mercato Non grince Quanto c'è la felipe di Zapata e Coda dell'Udinese Io no